Siamo qui con Mr. Pagli al termine di Campomorone-Santo Lucese contro Moral Fischi, terminata 4-3. Una brutta sconfitta che vi fa perdere la testa della classifica. Ma sì, diciamo che il campionato è ancora lungo, sapevamo che avremmo affrontato una partita difficile che era un campo confronto perché loro stavano una squadra molto fisica, molto maschiata e sapevamo che i punti avevano avuto difficoltà. E' un campo dove non è mai facile fare punti, loro sono stati molto bravi nell'interpretazione della partita, è stato andato in vantaggio praticamente quasi subito, sicuramente ha messo la partita in discesa, forse un po' complice, poca determinazione, una giornata un po' storta, forse ha fatto fare qualcosa di più, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo forse siamo cresciuti un pochettino, solo che nel momento che abbiamo fatto il 2-3-2 che sembrava che potessimo andare in rimota, loro hanno fatto subito lo schiaffo del 4-2, però diciamo che prendiamo di positivo il fatto che non abbiamo smolato mai, abbiamo cercato sempre di rimontare, a volte ci siamo anche un po' sbilanciati proprio per cercare questo goal e un po' forse che tanti gol loro sono determinati anche dal fatto che ci siamo sbilanciati tardi.